Cambia il modo di vedere la Serie B. L'Assemblea di Lega di ieri, incentrata proprio sull'assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo anno, ha accettato la proposta di Perform, piattaforma inglese leader nella trasmissione di eventi sportivi in streaming, che ora ha deciso di affrontare anche il mercato italiano. E dopo essersi aggiudicata uno dei pacchetti per la Serie A, ora ha messo le mani sulla Serie B. Perform trasmetterà 10 delle 11 partite di campionato per giornata, più tutti i play-off e play-out. Resta da assegnare l'anticipo televisivo. Trattative sono in corso con Rai e Mediaset. La Lega di Serie B poi valierà assieme a Perform la programmazione delle partite. In sostanza la B giochera di sabato o di domenica. Ci stiamo lavorando, ha dichiarato il presidente della Lega Mauro Balata, e decideremo nell'ottica della partnership con Perform. Contiamo di chiudere entro luglio. Dunque esce di scena Sky, sempre che non vi siano delle negoziazioni nei prossimi giorni. Dunque come faranno i tifosi del Pescara a seguire in diretta le partite dei Biancazzurri? Sarà possibile scaricando l'applicazione Dozen, attraverso cui Perform trasmette gli eventi on demand e lo si potrà fare su Smart TV, PC, smartphone e tablet, con un abbonamento a tariffa unica mensile, con costo accessibile, anche perché permette la visione di tutti gli altri eventi della piattaforma, e dal quale in qualsiasi momento si potrà recedere senza costi aggiuntivi o penali. Per altro un singolo abbonamento sarà abbinabile fino a sei dispositivi, con visione contemporanea di un evento su due di loro. Per i tifosi del Deffino ci sarà tempo e modo di prendere confidenza con la nuova maniera di vedere le gare del Pescara, anche se la via migliore di sostenere la squadra è andare allo stadio. A tal proposito, lunedì mattina sul sito ufficiale, la Pescara Calcio comunicherà modalità e prezzi della campagna abbonamenti per la stagione 2018-2019, nella settimana che mano a mano riporterà i calciatori in città per le visite mediche e per prepararsi alla prima settimana di lavoro che scatterà l'8 luglio.